L'Ico non è ancora tornata. Era andata a comprare qualcosa. Le uniche città raggiungibili a piedi sono lo Stasones e l'Eudapoli. Già, ma in ogni caso non ci si mette così tanto. Qualche messaggio? Ho provato a contattarla, ma niente. E non rilevo la sua posizione. Forse ha la batteria scarica. Direi di dividerci e andarla a cercare. Sì. Che c'è, Dot? Io inizierei da lo Stasones. Sto cercando online gli avvistamenti di una ragazza con uno spregatito. A quanto vedo ci sono molti post e cose simili al riguardo. Incredibile, lo sai da una ricerca online. Dot, puoi continuare su questa pista e cercare altri indizi? Sì, d'accordo. Io invece uscirò con Roy. Proviamoci allo Stasones. Ok. Spero tanto che tornino tutti sani e salvi. Non tutto quello che cerchiamo può essere visto solo con gli occhi. Non ricordo nulla. E questa? Chissà che cos'è. Tu ne sai qualcosa, spregatito? Certo, vuoi solo avere qualcosa con cui giocare. Che ne dici di tornare a casa? Forse c'è qualcuno che può aiutarci. Ehi, aspetta! Aspetta! Sembra sia fatto dello stesso cristallo della Terrasfera. Ma dubito che sia tutto qui. Che cosa c'è, Umbreon? Percepisci qualcosa su questo pendente? È tutto così affascinante. Fride! Niente, non è qui. Non l'abbiamo vista neanche noi. Ho chiesto a tutti quelli che ho incontrato. E tu che mi dici, Roy? Sono stato alla palestra di Brasio, se lui non l'ha più vista dall'ultima volta. Lico. Pippo. Ehi, Vattrell! Vattrell, aspettami! Insomma, va sempre a finire così. Vai sempre di testa tua. Ma ora... Sei uno spirito libero, ed è per questo che mi piaci. Ma quello sembra... Abbiamo già visto un tramonto così. Allora, qualcun altro oltre a me pensa che qui ci sia qualcosa che non va? Vicka. Sì, lo credo anch'io. Abbiamo perlustrato tutta la città. Non è da lì che sparire così, senza dire nulla. Forse non è sparita di sua iniziativa.